Benvenuti a Top Secret, le eccellenze dell'imprenditoria italiana che si sosseguono qui nella nostra trasmissione. Oggi parliamo di macchine, macchine da corsa, una cosa molto molto affascinante. Lo facciamo con l'ingegnere Nicola Scimeca, benvenuto, che è poi il manager director ed è il fondatore dell'azienda. Quindi parliamo di automotive. L'azienda, l'ho detto, si chiama Ycom ed è di Parma. Mi spiegava l'ingegnere, io lo sapevo anche tra l'altro, che c'è la Motor Valley in Emilia, che va da Parma a Bologna. Sì, è stata definita Motor Valley, va da Parma a Bologna, dove ci sono concentrati i principali costruttori o comunque automobilistici. Nomi veramente leggendari. I classici sono lì. Ci sono tre hub al mondo, una in Italia, un'altra in America, a Tornasciardo, tra l'altro in Inghilterra, dove fondamentalmente sono concentrate il motorsport mondiale, ma anche grazie appunto a questi costruttori. Beh, certi nomi però ce li abbiamo solo noi. Esatto, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati. Il marchio più famoso al mondo. È il brand più forte al mondo. Il brand più forte al mondo, accidenti. Senta, ingegnere, allora cominciamo facendo un po' di storia dell'azienda. Whycom è nato nel 2008, quindi facciamo 15 anni quest'anno. Siamo due soci, entrambi che venivamo dal motorsport, quindi ho fatto esperienze in vari settori, sia lato progettazione, lato ingegnere di pista, appunto che chi si occupa di gestire le macchine in pista. Il mio socio Mario, invece, ha progettazione, lato compositi, calcoli. Insomma, ci siamo uniti, abbiamo creato un'azienda in grado di progettare e costruire vetture da competizione. Fin dall'inizio, all'inizio dei primi progetti, sono stati progetti di macchine complete. Chiaramente all'inizio usavamo molto di più il network della Motor Valley, le aziende, i talenti che avevamo e adesso abbiamo molto più, chiaramente internamente, siamo circa 60 persone e siamo molto in crescita in questo momento, anche grazie appunto a una spinta che abbiamo dato noi, ma chiaramente c'è anche una spinta al lato mondiale della mobilità che sta cambiando e quindi che contribuisce appunto a questa crescita. Senta, quindi per entrare nel dettaglio, esattamente cosa fate? Noi progettiamo e costruiamo veicoli di mobilità, veicoli avanzati di mobilità. Chiaramente il nostro DNA è nel motorsport e questo lo facciamo per i principali costruttori automobilistici del mondo. e andiamo dalla Formula 1 fino alla Stokkar brasiliana, passando attraverso tutte le varie competizioni GT, la 24 ore di Le Mans e così via. E per loro, per i costruttori appunto, progettiamo o dei componenti o molto spesso capita di fare le macchine complete. Lei mi ha fatto un nome la 24 ore di Le Mans perché poi per i miei tempi era proprio leggendario. Sì, 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 e lo è ancora perché alla fine è una gara, intanto è una gara che appunto dura 24 ore dove si mette a, diciamo, a dura prova, le persone, i piloti, le macchine e quindi tutto quello che c'è attorno. Basti pensare che nella 24 ore di Le Mans si fanno in una gara di seguito tutti i chilometri che si fanno in un campionato del mondo di Formula 1, quindi concentrati in 24 ore. Ed è l'evento sportivo più importante al mondo. E noi alla 24 ore di Le Mans, da ormai, anche da prima di Wycom, siamo a fianco a tutti i principali costruttori e tra l'altro con una percentuale anche molto alta, lavoriamo veramente quasi per il 100% dei costruttori. Per alcuni abbiamo dei componenti, per altri abbiamo dei servizi, per altri facciamo appunto la macchina completa, come abbiamo fatto ad esempio per Lotus un po' di anni fa, abbiamo fatto la macchina che ha fatto Le Mans. Per chi non ce lo ricordasse, la 24 ore di Le Mans è quella che partono a piedi, fanno la corsa... Esatto, quello lì non si può fare più, non lo fanno per motivi di sicurezza, sei già legato, perfetto, però quest'anno, anche questo è interessante, Le Mans fa cent'anni, quindi è il centesimo centenario e ritornano Porsche e Ferrari uno contro l'altro, quindi anche questo qui è un po' come un ritorno alla storia, insomma. ma che meraviglia, sono stati fatti film su questa corsa, anche molto molto famosi, c'è anche in Un uomo e una donna di Lelouch, vabbè... Sì, sì, poi anche attori con Paul Newman o Steve McQueen, insomma sono stati... 39... No, no, a 24 ore sì, effettivamente... Paul Newman e Steve McQueen erano bravi anche come... Erano anche bravi, sì, 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 sì... Ma lei ha mai fatto una corsa? Guidando io, no, assolutamente no, la 24 ore di Man, come ingegnere di pista o come comunque anche con Wicon l'ho fatta 20 volte, quindi ogni anno, insomma, però sì, non ho mai guidato, a un certo punto, a 18 anni ho deciso, ho detto faccio il pilota, ho studio, ho fatto l'ingegnere, quindi... Perché non deve essere semplice guidare una macchina con tutti quei cavalli... No, no, sicuramente sono tutti professionisti che fanno solo quello, poi in particolar modo la 24 ore, chiaramente non è una gara sprint che dura mezz'ora, un'ora, ma devi anche gestire te stesso, quando dormi, non dormi, quando stai... E soprattutto, e anche tutti i tecnici che stanno attorno... Sono due piloti, no? Tre piloti, tre, alle Man sono tre, in altre gare 24 ore sono anche quattro, due piloti erano ai tempi... Ai miei tempi, sì, 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 dove erano veramente anche quasi inverosimili adesso, poter correre per 12 ore, minimo, se non di più... Beh, facendo la torre di teatro, a volte guido più di uno che fa la torre di teatro, comunque va bene. Senta, i punti di forza dell'azienda, quali sono? Ma sicuramente i punti di forza partono un po' dai nostri valori, che sono la passione, perché chiaramente facciamo anche un lavoro bello, affascinante, quindi quello lì viene anche un po', non dico naturale perché non è detto, però comunque sicuramente è molto bella, anche la flessibilità, cioè venendo dal motorsport, fai l'ingegnere di pista, si mette a piovere, cambia la strategia, deve reagire velocissimamente, questo valore qui e questa flessibilità è al giorno d'oggi, dove si dice che un anno di adesso sono dieci anni di dieci anni fa, per quanto tutto va forte e cambia velocemente, soprattutto anche nell'automotive, nel nostro settore le macchine sono state uguali per diversi anni, adesso invece c'è arriva l'elettrico, l'elettronica, la parte di mobilità, quindi questo sta cambiando tutto velocemente e quindi questo qui è sicuramente un punto di forza, il motorsport come background, come ti dà questa possibilità qua, quindi sicuramente questo qui è molto bello. E un'altra cosa che ci caratterizza, secondo me è un nostro punto di forza, è anche questo, anche lì, grazie al motorsport noi acceleriamo il processo di sviluppo, perché nel motorsport è tutto molto veloce, cioè fai macchine da corsa, ma le fai anche di corsa, arrivi anche in tanti altri settori, sì ci sono delle deadline, però magari puoi anche ritardare il lancio di un prodotto, la 24 di Demand è la terza domenica di giugno, non è che se arrivi alla quarta è andata, un po' anche come per voi anche nel teatro è quello, non puoi ritardare o prepararti, devi essere pronto, per cui diciamo questo qui sicuramente, quindi noi ci poniamo come quelli che accelerano il processo di sviluppo non soltanto nel motorsport, ma anche in altri settori della mobilità del futuro in generale. E sì, anche perché ho visto che ci sono dei progetti futuri, innovativi, pazzeschi. Sì, sì, noi infatti appunto in questo clima, in questa rivoluzione della mobilità in generale noi ci stiamo appunto applicando questo metodo appunto di accelerare lo sviluppo anche in altri settori, abbiamo collaborato con un'azienda che sta sviluppando un veicolo a decollo verticale, quindi un drone trasporto persone, elettrico chiaramente, quindi noi ci stiamo occupando tutta la parte strutturale della costruzione del veicolo, è un altro progetto abbastanza interessante di cui siamo anche particolarmente orgogliosi e tra l'altro non possiamo citare gli altri clienti, ma questo qui possiamo dire che è un prodotto Wycom, è quello che c'è un campionato del mondo di monopattini elettrici, quindi la micromobilità sta esplodendo un po' dappertutto, ma i monopattini li vediamo ovunque, quindi queste nuove forme di spostamento diciamo sono chiaramente, stanno arrivando dappertutto, però lo spirito dell'uomo è anche competitivo, quindi come noi truccavamo i motorini quando eravamo piccoli, adesso i ragazzini truccano o fanno le gare con i monopattini in città. Se potessero evitare di farle su marciapiede e lo facessero sulla pista è molto bello. Esatto, quindi questo campionato è un po' la MotoGP della micromobilità e quindi è un modo anche per regolamentarizzarli, renderli sicuri, fare appunto metterli in un ambiente in cui lì puoi correre e non fai danni appunto, non corri per le strade. Ed è stato bellissimo perché abbiamo sviluppato, inventato uno sport sviluppando un prodotto, cioè non esisteva, non esisteva neanche il pilota, quindi ad esempio quando abbiamo costruito il primo prototipo nessuno sapeva neanche come guidarlo, quindi abbiamo fatto delle selezioni prendendo dei piloti che venivano dallo snowboard, dal windsurf, dallo sci, anche dalle moto chiaramente, li abbiamo messi sui monopattini e questi qui qualcuno metteva il ginocchio a terra, qualcun altro stava in piedi, hanno imparato a guidarli e quindi è per questo che è stato bellissimo come processo, è venuto fuori un prodotto che somiglia chiaramente a un monopattino perché ha le ruote piccole e ci sta in piedi, però fa 100 all'ora, piega come una MotoGP e le gare sono anche molto spettacolari e quindi adesso c'è questo campionato del mondo che ha fatto 4 gare l'anno scorso e chiaramente ci sarà anche quest'anno e l'idea è poi quella di sviluppare anche dei campionati minori, nazionali, regionali, insomma per cercare appunto di far sfogare la gente sulla pista e poi non è detto che magari l'idolo di qualche anno fa dei ragazzini era Valentino Rossi, non è detto che magari in futuro ci sarà qualcuno che poi vincerà questo campionato piuttosto che un personaggio che farà questo, quindi è stato molto interessante. A me l'idea della macchina drone mi fa venire in mente Blade Runner, il film dove c'erano le macchine che giravano per il cielo di New York. Il futuro non è tanto lontano anche se comunque non è vicinissimo perché non è facile. Però si è già parlato di un servizio taxi da Milano. Sì, infatti principalmente questi qui sono tutte start up che creano dei servizi taxi cittadini. Il nostro progetto è un po' diverso nel senso che non è un trasporto cittadino ma tra città, quindi 200-300 chilometri, quindi è un po' l'hypercar per andare al mare, piuttosto che fare spostamenti così, due posti o quattro posti. È il futuro che diventa realtà. È il futuro sicuramente, siamo ancora non vicinissimi. Sento, visto che è molto interessante, abbiamo già finito il tempo. La sostenibilità che è importante? Sì, la sostenibilità è chiaramente importante e a livello aziendale spingiamo tanto a livello di benessere delle persone, piuttosto che abbiamo la palestra, abbiamo orari flessibili, quindi da quel punto di vista l'azienda è molto avanti. Ma anche l'auto motorsport, il motorsport è innovazione e anche un dimostratore di tecnologia, quindi in questo momento è un'applicazione perfetta. Per cui ad esempio i monopattini hanno la carrozzeria in fibra di lino, quindi non in fibra di carbonio, ma in fibra di lino, che il carbonio è un tessuto alla fine. Quindi in questo caso è un tessuto di lino e non di carbonio che ha un impatto ambientale più basso perché chiaramente è una pianta, quindi produce ossigeno durante il processo di produzione e in più è più riciclabile chiaramente del carbonio e questo qui cerchiamo di utilizzarlo per fare le carrozzerie delle macchine da corsa. Lì ci siamo spinti anche a fare un crash box che sarebbe il musetto, quindi la struttura di assorbimento frontale della macchina, quindi con la fibra di lino, per cui anche negli anni futuri sarà utilizzata molto di più che adesso. Benissimo, è già finito il tempo, però l'ultima domanda veloce, visto che parliamo di macchine da corsa, il segreto del successo, un'azienda di 70 persone è un'azienda che comincia ad essere veramente... Ma il nostro segreto è secondo me un po' un mix di questi componenti qua, quindi di competenza, di passione, di flessibilità, di attitudine che abbiamo, che è un po' quello che è fatto dalle nostre persone, che chiamiamo Y-Commerce, quelli di Y-Com, che ringrazio perché poi alla fine secondo me il segreto sono proprio le persone, siamo proprio noi. Benissimo, grazie, grazie per l'invito. Buonasera, benvenuti a Top Secret, parliamo delle eccellenze italiane nell'imprenditoria, parliamo in questo caso secondo me di futuro, perché sono con il signor Alessandro Basilico, buonasera, benvenuto. Buonasera. Amministratore delegato delle iniziative energetiche di Lazzate, tra l'altro in provincia di Monza, quindi dicevo parliamo di futuro perché parliamo di ecosostenibilità, di cose importanti, cominciamo però prima dalla storia dell'azienda. Sì, allora io derivo dall'azienda di famiglia, quindi sono figlio di imprenditori, classici imprenditori brianzoliche, abbastanza famosi nel panorama lombardo e poco più di quei ventenne comincio la mia esperienza lavorativa, comincio da basso, quindi comincio veramente dalla… Si occupava i genitori di questo? No, no, a quei tempi eravamo nel settore sempre elettrico, quindi si lavorava negli impianti elettrici e nella parte di automazioni, automazioni per cancelli, diciamo che mia famiglia è stata abbastanza famosa nelle nostre province, quindi Monza, Brianza, Como, Milano, perché sono stati tra i primi, quindi già negli anni 80 circa erano i primi a installare cancelli automatici, quindi i primi signori, i signorotti dei tempi che si potevano permettere il cancello automatico già negli anni 70-80, erano clienti dei miei genitori. Da lì la storia è cresciuta, io sono entrato in azienda intorno al 95-96 col business di famiglia, come dicevo sono partito veramente dal basso, proprio dalla manovalanza, quindi io ero un tecnico, uscivo col mio furgoncino e andavo a fare il tecnico, poi la mia voglia di crescere mi ha portato più vicino alla parte commerciale, quindi meno manuale ma più commerciale, negli anni chiaramente ero diventato un po' il formatore, quindi formavo sia la parte commerciale che la parte tecnica, poi sono arrivati gli anni 2006-2007 e si è cominciato in Italia finalmente a parlare di fotovoltaico, quello è stato il mio primo approccio, tenete conto che nel 2006-2007 era proprio i primordi, quando io parlavo di fotovoltaico spesso mi dicevano ma parliamo di fotografia? Ecco da lì la mia voglia di crescere mi ha portato a fondare un'azienda separata, quindi diciamo circa nel 2008 sono partito con mio fratello e abbiamo creato appunto un'azienda separata nel mondo appunto delle energie rinnovabili, da lì è stato un crescere, un crescere e abbiamo vissuto gli alti e bassi chiaramente degli impianti fotovoltaici perché come in questi anni già nel 2010-2011-2012 sono stati dei forti incentivi in ambito di impianti fotovoltaici e quindi abbiamo saputo così surfare e quindi andare in questi alti e bassi di mercato. Arriviamo al 2000 e orientativamente 2020-2021 dove nasce Iniziative Energetiche e quindi corono diciamo veramente il mio sogno di innanzitutto fare una crescita importante perché veramente negli ultimi tre anni abbiamo saputo davvero così coronare anche a livello proprio di aiuto di persone quindi di numero di impianti, abbiamo chiuso il mese scorso 3000 impianti, il 3000esimo impianto fotovoltaico quindi una cosa davvero interessante e praticamente arriviamo ai giorni nostri dove il core business aziendale è diventato energia rinnovabile quindi impianti fotovoltaici e sistemi. Ecco di questo volevo, la seconda domanda era proprio il core business, quali sono i prodotti? Sì, parto dicendo che la nostra mission è creiamo insieme la tua autonomia energetica quindi noi affianchiamo l'utente che può essere residenziale quindi la classica villetta piuttosto che il condominio alla PMI quindi anche l'azienda piccola o anche grande affianchiamo nel percorso di risparmio energetico quindi che non è solo l'impianto fotovoltaico anche se ahimè possiamo dire che il principe oggi avere un sistema di produzione autonomo quindi avere un sistema di produzione sul proprio tetto ti garantisce davvero una sorta di autonomia energetica, almeno parziale perché è vero che con un impianto fotovoltaico non riesci a coprire magari il 100% della tua fabbisogno energetico ma magari anche solo il 70-80% è davvero un traguardo davvero interessante quindi in qualche modo mi piace questa logica perché mi sento di dare un contributo, in qualche modo di aiutare sia l'azienda italiana che il privato. Senta e dovesse descriverci i punti di forza dell'azienda di iniziative energetiche? Sì, allora uno dei punti di forza che traspare di più è sicuramente l'esperienza come accennavamo prima, parlare già di fotovoltaico nel 2007-2008 eravamo davvero in pochi quindi oggi a distanza di ormai una quindicina d'anni che facciamo praticamente solo quello lo facciamo bene, lo facciamo da specialisti perché oggi sul mercato ci sono aziende specializzate quindi come possiamo essere noi ma ci sono aziende che è un contorno quindi diciamo che l'esperienza è sicuramente uno dei grandi punti di forza. Un altro punto di forza interessante è la grande selezione di prodotti quindi è importante per noi selezionare il prodotto giusto in base alla situazione giusta. Il terzo punto di forza forse il più importante di tutto è quello che in gergo si chiama l'essere verticale, l'azienda verticale però è giusto spiegare che cosa vuol dire essere un'azienda verticale. Noi siamo in grado di gestire dal contatto, cioè dalla signora Maria che ci chiama, quindi da quello che in gergo si chiama lead, quindi dal primo contatto, quindi gestiamo tutta la parte commerciale perché abbiamo una rete vendita interna, fino al chiaramente chiuso dal contratto, progettazione e fino all'ultimo installatore che serra l'ultima vite dell'impianto fotovoltaico montato, chiaramente anche tutto l'iter burocratico. Quindi questo essere verticali lo ritengo un grande punto di forza perché gestire tutta la filiera dell'impianto fotovoltaico è davvero una cosa singolare, totalmente internalizzato, poi chiaramente nel momento in cui serve, abbiamo anche noi dei momenti di boom di fatturato, quindi abbiamo anche tante maestranze esterne, però la competenza è 100% interna. E i mercati di riferimento quali sono i vostri? Ecco, i mercati di riferimento sono per lo più due, diciamo che è appunto il residenziale e la PMI, nella PMI chiaramente rientrano dalle aziende, dalle micro aziende, quindi possiamo parlare anche di ristoranti, di bar, fino alle aziende medio-grandi, quindi parliamo anche di multinazionali, parliamo di strutture, di logistiche che hanno veramente anche tetti, perché parliamo di tetti, davvero importanti, quindi abbracciamo un po' tutto il panorama. Se dovesse descrivermi la sua filosofia aziendale, come me la descriverebbe? Sì, allora la filosofia aziendale in un certo modo va un po' oltre quello che è il business, la routine di tutti i giorni. Io personalmente ho voluto portare in azienda qualcosa che lo sento, lo sento mio e quindi è anche bello portare in azienda, che è innanzitutto il clima aziendale, quindi per me, sia io stesso in primis, perché comunque vivo l'azienda tutti i giorni, sono ancora molto attivo in azienda e tutti i miei collaboratori che siano dipendenti o non, e non, devono stare bene. Quindi per me entrare in azienda tutti i giorni deve essere un piacere, ma non solo per me, ma lo deve essere per i miei dipendenti. Quindi il clima aziendale per me è fondamentale. Nel clima aziendale c'è anche, in qualche modo, stare bene dal punto di vista economico, perché no? Perché il dipendente in Italia oggi, adesso non voglio far polemica, però è risaputo che non abbiamo questi contratti così abbondanti e quindi mi piace avere dipendenti che meritano e che possano anche pretendere qualcosa in più. L'altra cosa per cui corono una filosofia veramente positiva è quello che mi piace aiutare associazioni benefiche. Nello specifico, lavoro con lavoro, diciamo che affianchiamo, aiutiamo l'associazione Stefania, che è un'associazione attiva nell'ambito di persone disabili. Addirittura ho fatto, credo, una delle esperienze più belle della mia vita, ho fatto dieci giorni di vacanza da volontario insieme ai ragazzi. Quindi questa è stata veramente un'esperienza bellissima, li abbiamo accompagnati e poi ti fanno provare cose che mediamente non tieni di conto. Pensiamo a tante stupidaggini, se dimentichiamo di queste cose. Bravissimo, complimenti. Grazie. Ma lei è scrittore anche? Allora, scrittore, ti ringrazio, è davvero interessante. Sì, allora ho coronato un altro dei miei obiettivi scrivendo un libro, è uscito sei mesi fa. L'obiettivo del libro è quello di divulgare questo mio verbo, questa mia vocazione che ormai è diventata una passione, di far capire alla gente perché è interessante pensare al risparmio energetico, al rispetto, perché comunque all'interno c'è anche il rispetto della natura e anche perché avvicinarsi a questo tipo di tecnologie. Quindi diciamo all'interno del libro ci sono tutta una serie di capitoli molto semplici, per fare degli esempi, come leggere una bolletta elettrica, che è una delle domande che mi fanno spessissimo, no? Oppure come risparmiare senza investire soldi? Cioè anche solo con delle abitudini giornaliere all'interno della propria routine si può, perché no, risparmiare per chi magari non ha la possibilità oggi di investire in un impianto fotovoltaico. Quindi il libro è sicuramente stato un obiettivo per me interessante e lo faccio come massima divulgazione. Come si intitola il libro? Energia da vendere. Energia da vendere. Energia da vendere. Senta, abbiamo già finito il tempo, le chiedo progetti futuri e segreto del successo dell'azienda, però in bocca. Velocissimo, allora, progetti futuri, stiamo chiudendo un piano industriale molto ambizioso e nei prossimi cinque anni abbiamo uno sviluppo sia geografico, quindi abbiamo l'intenzione di svilupparci su tutta Italia e oltre a questo inseriremo diverse altre divisioni, diciamo all'interno della divisione inteso come prodotto, quindi inseriremo un paniere di prodotto importante. Il segreto sicuramente del business, di quello che ho fatto finora, sono avere degli obiettivi chiari ed essere molto coerente con quello che si propone. Quindi nel momento in cui ho sentito la coerenza dentro di me ho fatto veramente un salto importante. Bellissimo, tra l'altro io so, non mi dica se sbaglio, che vorrà anche ampliare questo discorso sulla solidarietà. Sì, assolutamente sì. E questo è stupendo. Assolutamente sì, l'ulteriore coronamento della filosofia è quello di diventare società benefit, quindi vorrei, arriverò, appunto stiamo facendo tutta un'escalation per arrivare lì e quindi diventeremo anche società benefit che è un riconoscimento, diciamo, per il contributo sociale che diamo all'esterno. Bellissimo, fossero tutti così, grazie a nome della collettività. Grazie per essere stato con noi. Grazie, buonasera. Grazie. 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 Grazie.